Nel giro di 24 ore la maggioranza consigliaria al comune di Isernia ritrova la quadra e si presenta compatta a Palazzo San Francesco, giusto in tempo per approvare il riequilibrio di bilancio. Isernia si ritrova con un deficit accertato di 9 milioni di euro che occorre spalmare su più anni. Una situazione che aggrava la già precaria situazione delle casse comunali, almeno stando a quando affermato dagli esponenti di maggioranza che, come Ovidio Bontempo, hanno chiesto di accertare le responsabilità anche a carico delle amministrazioni precedenti. Ma l'aria che tira nel centro-sinistra non è apparsa così serena come potrebbe sembrare. Infatti, per Edmondo Angelaccio ci sono nodi da sciogliere anche subito, come le ultime decisioni di Brasiello sugli assessori esterni. Decisioni poi congelate. Il sindaco negli ultimi periodi, non so neanche io perché, sinceramente ha fatto delle scelte che sarebbe stato opportuno condividere e ragionare molto intensamente, non lo ha fatto. Io chiedo e ho chiesto e già lui sa che le ultime decisioni che ha preso per me sono illogiche e quindi vanno rimesse in questo senso. Si riferisce ai due assessorati esterni, Angelaccio? Gli assessorati esterni per me non esistono e comunque se esistono fanno parte di una discussione che c'è all'inizio. Prima della fase dell'inizio partita si decidono le regole e le regole non vengono cambiate in corso d'opera. Se poi vengono cambiate in corso d'opera devono essere delle cose clamorose, cioè ci devono essere delle urgenze che qui in questo caso non ci sono. In ogni caso pescare due avvocati quando ce ne sono all'interno di questo Consiglio sei, di cui tre in maggioranza e altrettanto tre che sono validi in minoranza, mi è sembrato un po' avventato. Quando arriva la resa dei conti con Brasiello, Angelaccio? Quando è che i nodi verranno al pettine? La scadenza temporale? Prima o dopo il bilancio? Questa è una bella domanda, però credo che il sindaco abbia già capito che su certi aspetti deve tornare a ragionare. Credo che prima del bilancio abbia delle decisioni importanti da prendere e penso che le prenderà. Dai banchi della minoranza chi non ha dubbi è Gianni Fantozzi che ha parlato di una maggioranza silente e assente, pronta solo a correre dietro alle promesse di Brasiello definendo i consiglieri di centro-sinistra come degli uccellini affamati. Gianni Fantozzi, allora la maggioranza si è ricompattata? Su questo non avevamo dubbi perché a un certo punto sappiamo perfettamente, io feci una similitudine tempo fa in un mio intervento, paragonavo i consiglieri comunali come degli uccellini che stanno nel nido, che ogni volta vedono muovere un fruscio di una foglia, stanno lì tutti quanti pronti per aprire la bocca per vedere se c'è qualcosa per loro. Ma al di là di questo, insomma, lo spettacolo che hanno dato ieri sicuramente è uno spettacolo indecoroso. Indecoroso perché posso capire che ci possono essere delle diversificazioni all'interno dei gruppi che compongono la maggioranza. Però è pur vero che uno schiaffo così forte alla città di Sernia non poteva essere dato e quantomeno la presenza del sindaco era doverosa, a prescindere da tutto, era doveroso che il sindaco fosse presente in aula, cosa che non è accaduto e di questo ci rammarichiamo perché non c'è stato rispetto per l'istituzione, non c'è stato rispetto per i consiglieri comunali che erano presenti in aula, non c'è stato rispetto essenzialmente per i cittadini. E per finire Mimmo Itzi, coordinatore provinciale dell'Udc, ha chiesto a Brasiello un rilancio dell'azione amministrativa, avendo come primo obiettivo quello di far ripartire l'università nel centro storico attraverso la facoltà di infermieristica.